Questa è una rapina! Consegnate tutti gli oggetti di valore! Fermo! Polizia! Ora potete scambiarvi gli anelli! Non riesco a trovarlo! Era qui da qualche parte! Fermo! Non è mio! Wow! Quanti anelli! Tesoro, scegli quello che ti piace! Siete in arresto per rapina! Passerete la luna di miele in prigione! Voglio sembrare un supereroe nelle fotografie! Superman! Rocky! Jackie Chan! Questo è il tuo servizio anunziale! Devi essere bellissima! Non mi piace questa tuta! Ehi! È la privacy! Grazie! Ora un servizio fotografico in costume da bagno! Nuova arrivata! Ecco l'uniforme! Non sembra male! Ehi! Tu indossi la stessa cosa! Io sono arrivata prima! Ragazze, niente liti! Ecco! Questa è della nuova collezione! Grazie! Ove è arrivato? Oh! Abbiamo finito le uniformi! Ecco! Questa era l'uniforme del nostro custode! Ehi! Fratello! Hai sbagliato colore della squadra! Sistemiamo le cose! Ora sei uno di noi! Benvenuto in prigione! Questa è la mia cella! Accidenti! Questo posto ha bisogno di un restyling più accogliente! Adesso sì che sembra di essere a casa! Entra! Questa è la tua nuova cella! La serrottura è di nuovo brutta! L'aggiusto io! Solo un secondo! Ci siamo! Fatto! Puoi rinchiudermi? Grazie per l'aiuto, amico! Posso rilassarmi? Mi sento come a casa! Lillian, ho bisogno delle tue impronte! Dammi la mano! Ehi, mi hai rovinato la manicure! Guarda come sono sporche queste uglie! Mi dispiace tanto! Sono la tua estetista personale! Lascia che ti aiuti! Non preoccuparti! Rilassati! Cosa vuoi che faccia? Allora, per cosa sei dentro? Ah, bella mossa! Oh, detenuto! Ho bisogno delle tue impronte digitali! Certo! Vediamo chi è più veloce! Non fatti tre! Io sei! Non male! Ecco il tuo pranzo! Uh, pollo! Fatto di farina d'avena! Che schifo! Ecco il tuo pranzo, signorina! Cosa? Farina d'avena rosa! Cameriere! Avete qualcosa di più gustoso? Ecco un pasto sano! Un avocado di farina d'avena! Ecco a te, tesoro! Magari la banana è vera! No! Anche questa è di farina d'avena! Morirò di fame qui dentro! Mi sento davvero fuori forma! Dovrei allenarmi! Esercizi con i calzini! Dov'è la mia palla di calzini? I calzini sporchi sono davvero pesanti! Ah sì! È proprio pesante! Ora farò cardio con la mia corda di calze! Ti stai allenando? Mi pare di sì! Fantastico! Ma dov'è? Raffido qualche parte! Non riesco a trovarlo! Oh, ragazzi! Avete visto il mio pop-it? L'ho perso! Commenteresti qui sotto per dirmi dove si trova? Grazie dell'aiuto! Qualcuno che guarda? Ora di mettersi al lavoro! Questo è il punto migliore per scavare! Grande! Ho quasi finito! Una bella maschera rinfrescante per far risplendere la mia pelle! Adoro i giorni di spa in prigione! Giocare a pallavolo nell'ora d'aria! Cosa c'è di meglio? Ehi, ragazzi! Datemi la palla! Prendila! Rammollito! Ridammi la palla! Niente più pallavolo oggi! Ti controllo! Amo i giochi classici! Ho vinto! È ora di fare un po' di esercizio! Cos'è? Un'altalena con le manette! Divertente! La prigione maschile è piena di giocattoli! Devo apparire al meglio anche se sono in prigione! Quale rossetto? Questo? O questo? Nel carcere femminile anche il rossetto va dietro le sbarre! Vediamo! Vado di... Rosso! Sono pronta! Puoi prendermi! Oh, amore mio! Mi manchi così tanto! Tesoro! Sei bellissima, mio angelo! Ehi! Riaccendete la luce! Mi sto abbronzando! Ecco carta e penna! Va bene! Ecco un bel disegno per te! No, no! Ha bisogno di informazioni! Non di scarabocchi! Tu non capisci affatto l'arte! Per il tuo e i tuoi sentimenti! Prendi un altro foglio di carta! Disegna ancora! Ammettilo! Hai rapinato il negozio, vero? Ti faremo parlare in un modo o nell'altro! Uh! Punti luce! Li prenderò! C'è un altro sulla tua spalla! Prendilo! Va bene! Ti dirò cosa è successo! Guarda le ombre! Ci stavamo sposando quando un ladro è entrato di corsa, con un poliziotto alle calcagna! Pensava che fossimo i criminali e ci eri inchiusi! Siamo così desolati per il malinteso! Sei libero! Finalmente, amore mio! Siamo liberi! Prendi! Non esiste! Non ci casco ancora! Sei in arresto! Grazie per il vostro aiuto! Tanti auguri! Ti è piaciuta la nostra nuova storia? Allora commenta qui sotto e dici quale prigione ti è piaciuta di più, quella maschile o quella femminile? Poi premi iscriviti, metti like a questo video e clicca sul campanello! Non perderti nessuno spettacolare video di WooHoo o Amosun!